Mortalità dei coralli, nuove specie, presenza di alghe invasive. Sono i mutamenti in atto sui fondali dell'area marina protetta di Portofino a causa dei cambiamenti climatici. E' quanto emerge dal progetto MPA ADAPT, un lavoro di 30 mesi finanziato dall'Unione Europea. Studi e monitoraggi subacquei fanno capire come sono cambiate le specie del Mediterraneo. Ad esempio ha aumentato il numero di barracuda e pesci balestra, per fortuna innocui. Il vero pericolo però arriva dalle alghe aliene, cioè giunte da fuori Mediterraneo, come l'australiana Caulerpa, comparsa per la prima volta a Portofino nel 2007. E adesso regolarmente tutte le stati, col caldo esplode, si può dire, e ricopre intere parti di fondali in area marina, ma tendenzialmente in tutto Mar Ligure. E questa è una specie dannosa perché compattando il fondale, ricoprendo il fondale, impedisce alle specie nostrane di insediarsi. La Caulerpa non si può sradicare e, dicono i tecnici, è molto pericolosa per la Posidonia, ben presente invece nel mare del Tiguglio. Si perde un habitat molto importante perché la Posidonia ha un impatto positivo a 360 gradi sull'ambiente costero. Le spiagge verrebbero erose di più e i pescatori peschierebbero di meno. Il caso Posidonia chiarisce le responsabilità dell'uomo sulla vita del mare. La Caulerpa infatti diventa fatale solo se la Posidonia è stata in qualche modo indebolita. I danni possono essere causati dagli ancoraggi, dalla pesca strascico illegale. A volte i ripascimenti delle spiagge, se fatti in modo non corretto, vanno a seppellire la Posidonia. Oppure magari interventi lungo costa che modificano il regime o erosivo sedimentario e quindi anche li va a coprire. I cambiamenti climatici non vanno combattuti, dicono i tecnici, perché sono già in atto e stanno già causando mutazioni nell'ecosistema. Quello che dobbiamo fare noi è adattarci e mettere in atto delle strategie per fare in modo che i cambiamenti climatici sugli ecosistemi abbiano un po' meno impatto.